Un progetto che si chiama Bugheller, l'obiettivo filosofico, quindi è così che nasce questo progetto, di ispirare, di raccontare delle cose, di mostrare ad altri cose che potrebbero potenzialmente non conoscere. Lo lascio, noi siamo un gruppo di giovani professionisti che hanno lavorato per cercare di venire a Roma un po' di riferimento in quanto a attività di vario genere e la prima passione che ci hanno unito è la street art. Grazie a tutti. Grazie a tutti.